Per la prima volta in Italia il numero degli studenti stranieri ha superato le 900.000 unità con un'incidenza dell'11%. Sono i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito riferiti all'anno scolastico 2022-2023 rielaborati da Fondazione ISMU di Milano. In media ha cittadinanza straniera più di un alunno su nove senza considerare coloro che sono già divenuti italiani né che italiano con un background familiare di migrazione. Come sempre quando si parla di cittadinanza straniera bisogna includere anche i figli di genitori stranieri nati però in Italia e quindi di cultura italiana che nel totale rappresentano più della metà degli iscritti con il 65,4%. L'aumento degli alunni con cittadinanza non italiana dagli 872.000 dell'anno scolastico 21-22 ai 915.000 dell'anno scolastico 22-23 ha sfiorato il 5% in termini relativi e rappresenta la maggior crescita annuale degli ultimi tempi. Aumenta inoltre la componente femminile perché si è toccata la massima quota all'interno della componente di alunni con cittadinanza non italiana quantomeno con riferimento all'ultimo decennio. I numeri sono ancora più alti in Emilia-Romagna dove un alunno su 5 è straniero con un'incidenza del 18,4%. Scendendo sul locale a Rimini sono 7.189 gli alunni stranieri il 15,2% del totale per la provincia e 4.171 il 17,3% nel comune. I paesi di provenienza sono principalmente l'Albania col 20,8%, l'India con l'11,4%, la Romania con 10,2% e in percentuali minori, Cina, Marocco, Filippine, Bangladesh, Egitto e altri. La maggior percentuale frequenta le scuole primarie e le secondarie di secondo grado con oltre 2.300 studenti per settore, meno di metà li troviamo nelle secondarie di primo grado e nella scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda le superiori, gli studenti stranieri sono quasi equamente divisi nei percorsi scolastici, 868 frequentano gli istituti professionali, 849 i licei e 671 gli istituti tecnici. Grazie.